La SAT di Riva del Garda ha organizzato ieri al Parco Miralago l'annuale appuntamento del Family Day, durante il quale numerose famiglie e bambini hanno potuto provare e approfondire le numerose attività della SAT e avvicinarsi così al mondo dell'alpinismo e della natura. Per l'occasione sono stati allestiti alcuni giochi dimostrativi come una piccola parete di arrampicata, un ponte tibetano, una teleferica e un percorso per mountain bike. Si è tenuta anche un'escursione al Mastio del Bastione sulla Rocchetta, mentre a metà giornata è stato organizzato anche un pasta party per tutti offerto dal gruppo della Bacionela. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!